L.A. Regina festeggerà i 69 anni dalla sua incoronazione mercoledì all'abbazia di Westminster. Ecco nove fatti affascinanti sull'incoronazione che la maggior parte dei fan reali potrebbe aver perso. La regina Elisabetta II, 95 anni, aveva appena 27 anni alla sua incoronazione. La spettacolare cerimonia dell'abbazia di Westminster si tenne il 2 giugno 1953 e impiegò 16 mesi per essere pianificata. È stato il primo del suo genere ad essere trasmesso in televisione e sebbene rimanga uno degli eventi più significativi della recente storia reale britannica, ci sono alcuni dettagli affascinanti e fatti straordinari al riguardo che anche gli osservatori reali più avidi potrebbero non conoscere.Express.co.uk ha raccolto nove dettagli straordinari sull'incoronazione della regina che potresti aver perso. 1. I nomi dei cavalli. La regina e il principe Filippo furono condotti da Buckingham Palace all'abbazia di Westminster nella Gold State Coach. Tra i nati da otto castroni grigi i cui nomi erano Cunningham. Tovi, Noah, Tedder, Eisenhower, Biancaneve, Tipperary e M.C. Creeri. 2. Il bucchè dell'incoronazione. Il bucchè della regina conteneva fiori bianchi di ogni nazione del Regno Unito era composto da fiori bianchi. Orchidee e mughetti dall'Inghilterra, Stefanotis dalla Scozia, orchidee dal Galles e Garofani dall'Irlanda del Nord e dall'Isola di Men. 3. Cambio d'abito del principe Filippo. Il duca di Edimburgo indossava un uniforme navale per il viaggio da e per l'abbazia di Westminster. Ma mentre era nell'abbazia, indossava una corona e la sua veste da duca sopra la sua uniforme. 4. La regina ha riciclato il suo vestito per l'incoronazione. Dall'incoronazione, la regina ha indossato l'abito dell'incoronazione sei volte, inclusa l'apertura del Parlamento in Nuova Zelanda e Australia nel 1954. 5. Il principe Carlo ha fatto la storia ma Anna ha perso l'occasione. Il principe Carlo fu il primo figlio ad assistere all'incoronazione di sua madre come sovrano. La principessa Anna era considerata troppo giovane per partecipare.